Primo posto, 1300 dollari al mese possiamo spendere bene o male per vivere e vivere bene, la cosa che volevo dirvi è che non occorre andare in questi posti distante perché il Forbes mi ha messo al sesto posto una città italiana come i luoghi dove andare a vivere. Stiamo parlando di città Sant'Angelo, siamo in Abruzzo ed è super consigliata per tutti quelli che vogliono iniziare a farsi una nuova vita. Città Sant'Angelo nel Pescherese è uno dei luoghi al mondo con la migliore qualità della vita, lo scrive la rivista americana Forbes. A proposito dei luoghi migliori in cui trasferirsi, pensate, mette anche l'Italia. Vediamo questa classifica, al sesto posto c'è città Sant'Angelo. Veniamo prima delle spiagge di Playa del Carmen, cioè abbiamo, ed è l'unica località italiana che è presente tra l'altro nella classifica. Tra i luoghi più economici in cui vivere c'è l'Abruzzo o la Sicilia? L'Abruzzo. L'Abruzzo, bravo, giusto! Mi complimento con lei perché Mi Manda Rai 3 è sempre una trasmissione vera. Grazie, grazie a nome di tutta la redazione, sindaco. Andremo una delegazione di Mi Manda Rai 3, visto che si vive così bene. Sindaco, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.